essendo entrambi tu per me sei un maestro maestra commento per te sono un maestro perché hai capito poco dell'evoluzione infatti essendo entrambi incarnati nella condizione umana apparteniamo alla stessa gamma di sentire per cui io evolutivamente valgo pressa poco quanto te per questo ognuno deve giungere ad essere il maestro di se stesso